Bene, veniamo da un'altra settimana di ottimo lavoro. Abbiamo fatto tanto, una settimana che naturalmente con l'impegno di lui è stata anche lunga. Dobbiamo sicuramente riuscire a trasformare questa settimana in cose positive. Venivamo da un'altra settimana di lavoro anche con Trento, ma purtroppo non siamo stati in grado di farlo. È evidente che ci serve quella scintilla, quella fiducia in più e soprattutto quell'atteggiamento rinnovato di grande desiderio per portare due punti in casa di una squadra che è vera in un momento di difficoltà, ma è un campo che è comunque ostico a priori per la tifoseria, ma soprattutto per il fatto di aver ritrovato un allenatore che in un momento abbia potuto sicuramente ricompatterare l'ambiente. Quindi sarà una partita molto difficile, ma serve quello. Serve tanta determinazione, un grande atteggiamento in campo per trovare quella scintilla e quella fiducia che poi ci possa portare a fare un grande colpo esterno che per noi sarebbe veramente importante.